Anni di lunghe indagini in attesa di una svolta. I carabinieri del ROS di Roma, il raggruppamento operativo speciale, hanno eseguito su disposizione della procura della Repubblica di Salerno quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettante persone. Allora è contestato il concorso nell'omicidio del sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, che fu assassinato a poche decine di metri dalla sua abitazione di Acciaroli il 5 settembre del 2010. In carcere sono finiti il colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo, l'ex brigadiere stretto collaboratore dell'ufficiale Lazzaro Cioffi, Romolo Ridosso del clan di Scafati Loreto Ridosso e l'imprenditore Giuseppe Cipriano, titolari di una sala cinematografica nel comune di Scafati che all'epoca dell'omicidio Vassallo in quell'estate gestiva un cinema d'Acciaroli. Il momento dell'omicidio, così come più volte denunciato dai familiari del sindaco Pescatore e dalla fondazione Angelo Vassallo, che in questi 14 anni hanno costantemente invocato la verità su quanto accaduto in quel drammatico giorno d'inizio settembre del 2010, sarebbe legato al traffico di droga. All'epoca il sindaco aveva minacciato più volte di ricorrere all'autorità giudiziaria per denunciare fenomeni legati allo spaccio di droga nel Cilento, in particolar modo nel suo territorio. Angelo Vassallo era pronto a denunciare anche esponenti delle forze dell'ordine. Per la sua comunità auspicava un turismo sicuro. In manette, come dicevamo, è finito il colonnello Fabio Cagnazzo, già da tempo finito nel registro degli indagati per l'omicidio del sindaco Pescatore. Proprio nell'immediatezza dell'agguato a Vassallo, l'ufficiale dell'arma in quei giorni, in vacanza proprio ad Acciaroli, secondo quelle che sono state le contestazioni mosse dalla Procura della Repubblica di Salerno, ebbe un ruolo nell'attività di depistaggio. All'epoca il colonnello Cagnazzo era capo del nucleo investigativo dei carabinieri di Castello di Cisterna, dove lavorava anche l'ex sottoufficiale Lazzaro Cioffi, già condannato per concorso esterno in traffico di droga. Fu il colonnello Cagnazzo, secondo quando poi, emerso dalle indagini, a sequestrare le immagini registrate da una telecamera di sicurezza di un esercizio commerciale che affacciava nell'area portuale di Acciaroli. Lo fece senza alcuna autorizzazione della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, che indagava inizialmente sull'omicidio prima del trasferimento dell'inchiesta alla Procura della Repubblica di Salerno, ora diretta dal procuratore Giuseppe Borrelli. L'ufficiale dell'arma inviò poi un'informativa che orientava le indagini verso uno spacciatore di origini brasiliane. «Soltanto illazioni e congiutture nei miei confronti», disse mesi fa il colonnello Cagnazzo nel corso di un lunghissimo interrogatorio durato circa 11 ore dinanzi al procuratore della Repubblica di Salerno. Adesso la svolta in una inchiesta lunga, difficile, sulla quale nel tempo non è mai calato il silenzio, con altri particolari dettagli che devono ancora essere chiariti per fare piena e definitiva luce su un fatto di sangue che scosse sin da subito l'opinione pubblica.